vi racconto quattro cose particolari che faccio mentre lavoro 1. quando i dipinti sono molto grandi come nel caso della pietà a volte salgo su dei pezzi di legno per arrivare più in alto e lavorare comodo altre volte invece metto in atto degli stratagemmi molto più precari 2. mi sporco e inzozzo tutte le magliette di colore e questo perché mentre dipingo uso dei mazzi di pastel pencil giganti che faccio fatica a impugnare e devo tenere contro la mia pancia per non farli cadere 3. uso i pastel pencil fino all'ultimo millimetro quindi quando hanno la punta smussata gli do una bella temperata con un tempera matite rigorosamente a manovella e poi li reinserisco in un prolungatore che è questo simpatico strumento che utilizzo per avere più comodità con le matite cortissime 4. a fine giornata mi siedo e guardo quello che ho fatto per me è come una specie di rituale osservo, esamino, decido, prendo coscienza e poi lascio andare tutto mi dimentico del mio lavoro fino al nuovo giorno 5. a fine giornata